L'evento di oggi è di straordinaria importanza perché a uno stesso tavolo ha visto operatori di settori diversi, dal mondo delle professioni alle università. Si è parlato in modo concreto di problemi, ma si sono anche trovate alcune soluzioni. Occasioni come queste sono delle occasioni molto importanti perché offrono il punto di vista diverso e il dialogo verso la soluzione di problemi concreti. Ecco, un grande evento e speriamo non sia l'unico, ma una tappa di un percorso molto più ampio e molto più importante in futuro. Grazie.